denbor incollò i sei occhi alle lenti del cosmoscopio aveva i tentacoli del naso d'un bel colore arancio vivo per la paura e mentre dettava il rapporto al tecnico che stava dietro di lui le antenne ronzavano rauche eccola gridò la macchina che si vede nel lettere può essere soltanto una flotta proveniente da oltre il continuum spazio temporale a noi noto non si è mai visto niente di simile deve essere un nemico date l'allarme alla camera di commercio intergalattica non c'è un istante da perdere a questa velocità ci saranno addosso in meno di sei secoli acne deve fare entrare in azione la flotta ammesso che ne abbia la possibilità io alzai gli occhi dall'ebdomadario di chicago con cui mi ero consolato durante i periodi di inattività della pattuglia super galattica il giovane bel vegetale con cui avevo diviso il mio rancio di crema di vermi fin dalla più tenere età e con cui ero stato buttato fuori da tutte le bettole della città infradimensionale di castoria aveva un'espressione preoccupatissima sulla faccia color lavanda piede l'allarme saltammo sulle biciclette spaziali e ci dirgemmo a tutta birra verso il pianeta esterno su cui consiglio teneva seduta nella sala del gran consiglio che misurava almeno nove metri quadri e aveva un soffitto altissimo erano riuniti i delegati delle 37 galassie dell'universo prossimo olstof presidente del consiglio e rappresentante del soviet degli stilisti alzò il muso privo d'occhi con solennità e si preparò ad arringare la gran folla che costituiva l'assemblea alstof era un protozoo iper sviluppato di nocass e quando parlava emetteva un date di caldo oppure di freddo signori trasmise terribile pericolo ci sovrasta ritengo di doverlo portare alla vostra attenzione i rappresentanti applaudirono freneticamente e il pubblico interplanetario fu percorso da un'ondata di eccitazione quelli che non avevano mani battevano i tentacoli olstof continuò acni striscia sulla pedana seguì un silenzio echeggiante durante il quale si udì dall'altissima sommità della piattaforma una specie d'incoraggiamento acni l'eroe dal pelo giallo che in tante occasioni aveva comandato i nostri eserciti salì sul pulpito che torreggiava a parecchi centimetri dal pavimento amici cominciò sfregando eloquentemente gli arti posteriori queste pareti queste colonne preziose non dovranno piangermi a questo punto uno dei suoi vari parenti applaudì benissimo ricordo una volta olstof si interruppe acni hai prevenuto i miei pensieri ai miei ordini va e vinci in nome della vecchia cara intergalattica due capoversi dopo ci trovammo in volo oltre una miriade di stelle verso una macchia dall'aspetto vago lunga un milione d'anni luce e che indicava la presenza dell'odiato nemico che non avevamo ancora visto non sapevamo quali mostri dall'aspetto orribile grottesco pullulassero fra le lune dell'infinito ma nel chiarore che continuava ad aumentare fino a invadere tutto il cielo c'era un senso di spietata minaccia di lì a poco riuscimmo a distinguere nella macchia nebulosa oggetti separati e davanti alla moltitudine dei miei sensori visivi colpiti dall'orrore si parò un'interminabile schiera di navi spaziali a forma di forbice fatte di un materiale del tutto sconosciuto poi un suono terrificante venne dall'orda nemica erano evviva un urlo di sfida quando le mie antenne sollevate captarono la minaccia dello scontro imminente della mostruosa invasione contro il nostro magnifico sistema portata da sconosciuti abissi esterni fu il percorso da un fremito di ribellione a sentire quel peana simile al suono di una macchina per cucire arrugginita anche a tni alzò il grugno in atto di sfida e trasmise un ordine decisivo ai comandanti della flotta le nostre astronavi si schierarono velocemente in formazione da combattimento lasciandone cento o duecento a molti anni luce dalla linea principale e